Per sordi, tragedia sul lavoro questa mattina in via Goito, traversa che unisce via Pistoiese a via Filzi a Prato. Un operaio albanese di 56 anni è morto precipitando dal tetto del capannone di una officina meccanica gestita da cittadini cinesi, dove stava compiendo alcuni lavori per conto di una ditta edile. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sul tetto quando all'improvviso ha ceduto il lucernario, facendolo precipitare a terra. Purtroppo il volo, da un'altezza di circa 5 metri, non ha lasciato scampo all'uomo, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, fatti dai soccorritori della pubblica assistenza inviati dal 118. Il 56enne, che abitava a Firenze, ha riportato la frattura della base cranica ed è morto praticamente sul colpo. Quando è successa la tragedia, ci sarebbero stati anche due colleghi dell'uomo sul tetto, impegnati a sostituire la vecchia copertura. Sul posto anche la Polizia e i tecnici dell'ASL, che dovranno ora accertare la dinamica e soprattutto verificare se erano state rispettate le misure di sicurezza. La Polizia Municipale ha chiuso al traffico la strada, mentre i vigili del fuoco hanno portato un'autoscala in modo da poter effettuare il sopralluogo in sicurezza sul tetto del capannone. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, è stato informato. Rimangono stabili le condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato al poniclinico Santa Maria delle Scotte di Siena. La terza notte di decenza in terapia intensiva è trascorsa senza variazioni, così il bollettino medico di stamani. Le condizioni cliniche rimangono invariate nei parametri cardiorespiratori e metabolici, mentre resta grave il quadro neurologico. Si aggiunge che il paziente è sedato, intubato e ventilato meccanicamente. La prognosi è riservata. L'equip multidisciplinare valuterà nei prossimi giorni eventuali azioni diagnostico-terapeutiche da intraprendere. La Guardia di Finanza di Siena ha sequestrato 670 mascherine FP2 importate dalla Cina, distribuite sul territorio nazionale da un'azienda toscana perché sprovviste di marchio CE ed erano corredate da una certificazione emessa da un ente non autorizzato. Inoltre non era stata richiesta dall'importatore la validazione straordinaria e in deroga. Il controllo e il successivo sequestro è stato fatto in Val di Chiana. Il responsabile della violazione è stato denunciato per aver posto in vendita prodotti con segni distintivi tali da indurre in inganno il consumatore sulla qualità del prodotto. Per le fiamme gialle è alta l'attenzione sui fenomeni distorsivi del mercato legati alla commercializzazione dei dispositivi di protezione personale come mascherine di protezione e guanti. Un turista tedesco di 60 anni è annegato in mare davanti alla spiaggia dei Cani di Marina di Castagneto in provincia di Livorno. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio dopo che l'uomo aveva deciso di fare un bagno. Il sessantenne probabilmente ha accusato un malore e nonostante sia stato subito soccorso dai volontari di due ambulanze della misericordia arrivate sul posto da Castagneto di cui una con medico non c'è stato niente da fare. Tre persone sono state recuperate e tratte in salvo dai vigili del fuoco dopo essere rimaste bloccate all'interno dell'impianto di risalita il baluardo a Colle di Valdelsa in provincia di Siena. È successo ieri pomeriggio all'interno dell'ascensore che collega la zona di Castello a Colle Bassa. Le persone dopo essere state tratte in salvo dal personale speleo alpino fluviale del comando di Siena che si è calato nel pozzo dell'ascensore, non hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. In seguito al guasto l'amministrazione comunale ha deciso la chiusura dell'impianto fino alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria. La riapertura dell'impianto di risalita ha fatto sapere l'amministrazione con una nota era stata decisa dopo le richieste dei residenti di Castello dopo i tre mesi di chiusura forzata dovuto all'emergenza coronavirus. Una mostra virtuale a San Giovanni, dedicata a San Giovanni, patrono di Firenze, per celebrare il 24 giugno ricorrenza della sua nascita. È quanto propongono le gallerie degli uffizi di Firenze che mettono online un percorso virtuale tra 15 opere realizzate tra il 1300 e il 1900, tra le quali capolavori di Leonardo, Raffaello, Bronzino e Veronese. La rassegna dal titolo Il santo che battezzò Cristo, scene dalla vita di San Giovanni Battista, curata da Anna Bisceglia e già online sul sito del Museo Fiorentino, parte con la pala d'altare del pittore giottesco Giovanni del Biondo e prosegue poi con il San Giovannino nel deserto che Raffaello eseguì a Roma intorno al 1518 e con quello di Andrea del Sarto di bellezza struggente. Presenti anche le commoventi raffigurazioni della prima infanzia della Battista dipinte da Pontormo e Bronzino e il Battesimo di Cristo, momento culmine rappresentato da dipinti di Verrocchio e Leonardo e di Veronese. Venerdì 26 giugno, Castelfiorentino, in provincia di Firenze, intitolerà il Parco Urbano alla memoria di Gino Bartali, giusto tra le nazioni, in virtù del riconoscimento conferito gli post mortem dallo Stato di Israele per il contributo apportato alla salvezza di centinaia di ebrei durante l'occupazione tedesca. Fra le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione comunale a questo riconoscimento, oltre ai meriti sportivi e alle ragioni di tipo umanitario, spiega una nota, figurano anche le radici familiari del campione. Il padre, Torello, era nato a Castelfiorentino nel 1885 e anche dopo il trasferimento della famiglia a Ponte a Ema, dove sarebbe nato Gino, i Bartali continuarono a mantenere rapporti cordiali con i loro parenti di Castelfiorentino. Chiudiamo con le previsioni meteo per domani sereno o poco nuvoloso, modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi, venti deboli settentrionali fino a moderati di maestrale nel pomeriggio su elba e costa meridionale. Mari poco mossi, temperature pressoché stazionari e con punte di 32-33 gradi.